Silvio Berlusconi farà assistenza in un centro anziani nel Milanese. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso all'ex premier la pena alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali per scontare la condanna per il processo Mediaset, al netto del condono di un anno. Berlusconi assisterà gli anziani con impegno di almeno una volta alla settimana e per un tempo non inferiore a quattro ore consecutive. Non potrà lasciare la Lombardia, ma è autorizzato, come da sua richiesta, a ricarsi a Roma dal martedì al giovedì. Il luogo dove l'ex premier farà assistenza è il centro anziani della Fondazione Sacra Famiglia Cesano-Boscone. Soddisfatti i legali di Berlusconi, la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano appare equilibrata e soddisfacente anche in relazione alle esigenze dell'attività politica del presidente Berlusconi, hanno dichiarato l'avvocato Franco Coppi e l'avvocato Niccolò Ghedini. La notizia di Berlusconi ai servizi sociali fa il giro del mondo e diventa breaking news sui siti delle principali testate internazionali.